Insomma, un ruolo che Johnny Depp ha pensato per te, cioè ti ha proprio voluta senza provino, quindi che emozione è stata per te ricevere questa scelta? All'inizio pensavo fosse uno scherzo, dopo ne sono stata molto lusingata, perché è un attore che stimo tantissimo, non lo conoscevo come regista, quindi è stata una grande, grande opportunità e è stato molto bello incontrarlo, molto. La cosa ti ha colpito di Rosalie, di questa donna? Che per l'epoca era una donna molto moderna, che viveva da sola, aveva fatto la modella, amava l'arte, amava gli artisti, un po' li accudiva, ma un po' era anche dura, perché voleva essere pagata, quando era il momento di essere pagata.